Si respira un'area nuova nell'immobiliare. Milano è la prima città d'Italia a registrare questo rinnovato entusiasmo. Ma cosa sta cambiando davvero e soprattutto? Cosa possiamo attenderci? C'è un evento speciale il 21 marzo dove cittadini, operatori professionali, amministratori pubblici si incontreranno per confrontarsi e capirsi su temi molto concreti. In collaborazione con Regione Lombardia e Comune di Milano e OID, osservatori immobiliari digitale, ci troveremo nell'auditorium Giorgio Gaddar, proprio sotto il pirellone, per parlare di sviluppo urbanistico a basso impatto, tendenze di mercato e capire se e come vendere o comprare casa. Tanti redatori, idee ed opinioni. Non puoi mancare di certo tu. Ti aspetto quindi il 21 marzo alle ore 17.30. Registra gratuitamente il tuo posto seguendo i link in sovraimpressione. A presto!